Maietta, qua vicino a me, il capitano della Cremonese anche, attendiamo un esponente della Ternana che era già alla cena, stanno entrando in campo, Maietta, il capitano della Cremonese Qua con me il capitano Maietta, attendiamo Baiocco e qualcuno della Ternana, no no sono lì a cena, il rigore di Giorginio ha complicato un po' tutto Arriva Gervasi che è il team manager della Ternana perché è giocato, sono a cena, no capitano eccolo qua No, allora io ho tre tappi in mano, uno dei tre tappi ha dentro una monetina, il primo che sceglie mi deve dire se vuole il tappo più basso, centrale o quello più alto Adesso io li mischierò, vinciamo, la sutiro il cap Capitano scusami, non è per la Ternana, allora mischio i tappi, intanto dimmi il microfono Maietta Salve 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 Grazie. E dunque al sorteggio Capitano Maietta ha azzeccato il tappo con la menettina, l'avvocato Stefano D'Apolito quindi consegna la Coppa della Sutirol Cup al Capitano del Verone, è andata bene alla squadra più titolata.